Sono Claudia, un operatore olistico. Sono Eliana, sono una naturopata e un'insegnante di fitness. Sono Simona, sono un'operatrice socio-sanitaria. Mi chiamo Natalia. Mi chiamo Elena. Ho scelto di iscrivermi al corso di yoga facciale perché sono anni che seguo Petra e il suo metodo viso in forma attraverso i social e questa disciplina olistica così naturale, efficace ma non invasiva mi ha sempre attirato molto. Ultimamente stavo cercando qualcosa di nuovo, di diverso da poter offrire alla mia clientela e così mi sono avvicinata allo yoga facciale. Per poter avere uno strumento diverso, nuovo, per poter aiutare le persone. Svegliarsi la mattina e vedersi con un viso radioso, luminoso e tonico e secondo me una buona partenza per sentirsi bene a 360 gradi. Petra è un'insegnante molto professionale, precisa e disponibile. Riesce a spiegare ogni cosa in maniera molto semplice. Petra è una persona che trasmette tutta la passione che ha per questa disciplina. È molto puntigliosa, molto precisa, molto accurata nei modi in cui insegna. Anche se era tutto online, non ho sentito assolutamente alcuna carenza nella formazione. Anzi, Petra è un'insegnante davvero fantastica che mi ha accompagnato durante tutto questo percorso e pronta a risolvere ogni mio dubbio. Io partivo da zero e nonostante questo non ho avuto assolutamente alcuna difficoltà. Infatti i materiali che ci ha fornito erano veramente di facile comprensione. Io credo che questo percorso, per tutti gli operatori che lavorano in ambito olistico nel mondo del benessere, sia veramente un valore aggiunto che ci permette di aumentare la nostra professionalità. Ringrazio quindi Petra per questa bella opportunità. Grazie di tutto Petra. Grazie Petra. Grazie Petra.